cari amici sono emiliano babilonia i nuclei operativi delle ss di roma reparti operativi speciali segreti stanno utilizzando le armi ad energie dirette ad onde convogliate all'interno del mio cervello in continuazione mi alzano mi alterano tutte le frequenze celebrali attraverso attacchi con arma d'energia diretta con frequenza inalternata sto facendo il video della diretta radio web che ho fatto con il professor corrado malanga mi vedono dentro casa con i satelli di spia a telecamera scansione sintetica e cercano di bloccare il mio ragionamento il mio cervello e mi effettuano all'interno dei condotti di tv all'interno del cervello lavaggi del cervello continui attraverso attacchi con arma d'energia diretta a scansione sintetica sono reparti operativi dei servizi esterni della del gruppi delle torture guastatori e manipolatori celebrali un saluto a tutti amici di emiliano babilonia